ragazzi benvenuti ben trovati sul mio canale io sono magnus siamo sempre qui su fifa 21 che arriva all'altro del new pot country siamo a metà luglio siamo tra l'altro anche in semifinale io direi come sempre di cercare sempre di vedere fino a che punto riusciamo arrivare in coppa ho venduto myong questo ci fa piacere visto che ci hanno dato altri 170.000 da poter raggiungere al nostro budget e vedere perché poi a quel punto possiamo capire che spesa possiamo sostenere nel senso che mi avete dato tanti consigli tanti giocatori che possiamo impiegare però devo capire chi possiamo acquistare e chi non possiamo acquistare tipo per esempio potremmo anche vendere un fantastico makita e magari vedere un poco sandstorm per esempio non mi garba per niente a torres mi avete consigliato di farlo diventare una t visto che è molto promettente per cui facciamo così se no mi dimentico all'improvviso e poi è meglio di no potremmo a questo punto far diventare torres un e dobbiamo un pochettino anche sfoltire la rosa perché ho visto che c'è tanta roba quindi sandstorm è in prestito ma facciamo così rimuoviamo dal prestito sandstorm e trasferimento vediamo se lo riusciamo a vendere mentre invece piano di crescita proviamo a vedere se lo riusciamo a far diventare una t 56 settimane neanche poi tanto magari riusciamo a indovinare il ruolo giusto prima di venderlo devo dare sempre un'opportunità picco per vedere come mi gioca d'ordovic sta bene lì anche se d'ordovic è destro quindi magari potrebbe giocare anche meglio a sinistra e nazzuta l'inverto poi qui dobbiamo fare dei cambi assolutamente shane lo facciamo giocare un'altra volta a sinistra torres me lo voglio portare shane a questo punto non ce lo portiamo praticamente più clison dobbiamo capire anche come giocano i ragazzini però allora lonsen che poi non so neanche se mandarlo in prestito a sto punto uen ma non io a 50 neanche va bene okens lo farei giocare a posto di ok anche se c'è un po ma è un po scontento ma può capitare getten se lo togliamo e ci facciamo giocare a no olson è troppo giovane l'owens secondo me questo è forte l'avevo pure mandato in prestito ma vabbè giocavo così dai tra l'altro ci gioca anche fuori ruolo però vabbè fa niente portiere inchiodato in porta eh mamma mia vabbè manco il fallo siamo riuscito a fare guarda lì ce l'ho preso veramente veramente l'ho preso riescono addirittura a scavalcare anche il fallo va bene non fa niente larga bene sopra andiamocene non sembra male sei già un fuorigioco bravo l'owens ok poi pico bella pico avete visto bravo pico pico è molto bravo non so cosa lo scopriremo sicuramente man mano che andremo avanti però non lo so se la faccia se l'espressione però abbiamo girato bene palla eh bravo anche no tsuda che si è un gacuto andiamo andiamo aspetta aspetta dov'è vincere eh l'avevo data per l'orens vai eh gacuto ti si è fatto anticipare atterramelo 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 che cos'è speriamo che non sia rigore eh non credo che sia punizione punizione mettiti sul palo mettiti sul palo veloce 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 ho detto mettiti sulla punizione devi dare una craniata nel palo ma perché porca paletta era meglio il rigore a sto punto eh ci avete un mazzo atterramelo la mancata l'ha mancata guarda lì boom wow è stato sfortunato eh ma boh ti ho dato troppa fiducia c'è un minuto no gacuto oh casumo sta giocando malissimo aspettami aspettami bravo al tamarino che si fa sempre vedere è buona vai ok bravo oh quello è fallo bravo casumo meno male meno male ottimo cross ma che fai ti fai perdonare casumo ha giocato male forse casumo si sta ribellando perché vorrebbe giocare più in avanti non credo che giocherà più in avanti grande pico avanza 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 forza bravo ins vai ins che ce la puoi fare vai rubiamoci sta partita e vai pico è sfortunato pico è sfortunato no te va arriva mamma mia quanto siamo lenti quanto siamo lenti l'ultima azione ce la fai fare no eh c'è manco l'ultima azione ci fate fare anche l'ultima azione ci fanno vabbè questa è scorrettezza però eh ho provato a farlo tirare di prima ma ha tirato male vabbè allora io sinceramente vi dico la verità il primo che vorrei puntare visto che in pratica su quelle fasce siamo abbastanza lenti però ce ne sta uno che secondo me non è assolutamente male che possiamo prendere ho fatto per testa nero di senso 2,2 prima donna 1,2 la tua prestazione ok io sinceramente senso valore 2,2 c'è 2,2 no io andrei a trattare perché obiettivamente secondo me è un giocatore che utilizzo pochissimo ma un bacio ti 10 milioni eh li negoziamo dammi 3 e vediamo 2,2 50 no è troppo poco contro offerta che sei cretino non capisci allora facciamo 2,8 ah ma questa non è contrattaccia questa è aumentata di 50.000 e basta quanto è schifo quando fanno così rinegoziamo dai 2,650 poi tanto non scendo però se no te lo regaliamo abbiamo fatto 2,2,6 vai 2,660 niente allora scusami non lo capisce no comunque è un buon giocatore cioè almeno qualcosa ce la dovresti dare allora andremo un attimo avanti vediamo soprattutto con offerta per il prezzo di Konink allora Konink lo diamo in prezzo perché è un 50 e sinceramente non deleghiamo perché se no poi non si metteva d'accordo questo per un anno va bene così ok proverei a questo punto a vedere se riusciamo a prendere sto calciatore tra l'altro vi capisco in classifica chi c'è perché qua diventa un po' più preparato nel senso che qui magari le squadre le conosco un po' meglio squadre che magari potrebbero c'è il Brinkyard City il Bristol City il Cardiff qui sono forti chi sa il Palace sono forti il City è quello che è saluto è salito Mirwall Mirwall non dovrebbe essere male forse presto Stoke City vabbè dai queste sono più o meno le squadre vogliamo vedere se riusciamo a prendere perché come già vi ho detto io li ho messi nella lista dei giocatori di mercato Collins potremmo cercare di prendere anche Barbut facendolo diventare una T anche se c'è questo handlone ho visto non è male c'era 29 anni era abbastanza veloce guardate qui non dovrebbe valere tanto per cui vediamo se riusciamo ad acquistarlo scambio giocatore centrocampo chi c'ho allora Lorenz Altamarino non vale niente praticamente porca misera però c'ha 22 anni Altamarino che tens lo sto utilizzando tra 18 anni allora io gli darei Altamarino no scusami eh sì vabbè quanto sei bello vogliono Ba e 240 no 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 vogliono un attacchiante allora provo un altro scambio quindi vogliono un attacchiante chi ci abbiamo come attacchiante a questo punto gli diamo Sandstrom facciamo Sandstrom ok e poi facciamo 50 no vogliono 1950 senza Sandstrom e no contro offerta allora li negoziamo no posso arrivare a 1.2.000 1.5.50 che due palle allora contro offerta li negoziamo offerta cartellino gli do 1.370 e ti aggiungo una causa sulle vendite e il 5% questo praticamente fa tutto quello che noi non diciamo tutto al contrario questo non è trattare allora offerta cartellino facciamo 1.4 1.4 questo sai se dici no ti ammazzo no devi fare quello che diciamo noi 1.4 e 20 1.4 e 20 attenzione a non sbagliare è già successo altre volte 1.4 e 20 vabbè ha accettato l'offerta voi ci dobbiamo mettere d'accordo con lui questo è molto veloce secondo me che peccato che non è tanto giovane l'unico mio terrore è capire quanto guadagna uno come questo perché qua secondo me andiamo un po' più sul pesante cruciale perché cruciale non vuoi giocare cruciale accettiamo cruciale un anno cioè di passaggio questo non vuole proprio rimanere ma tipo due anni te li fai due anni vabbè due anni è contento su questo siamo d'accordo tutti e due se no vogliamo una cosa recessoria va bene stipendio quanto gli do questi guadagnano assai eh dieci dieci assai secondo me eh addirittura ah aspetta un momento contro offerta si 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 eh no diciamo 40 eh vieni mi incontro e qua non ci abbiamo niente vabbè l'abbiamo preso eh almeno su questo possiamo essere un po' più contenti quindi a questo punto io Makita lo venderei così ci toglieva Makita è un 71 però dovrebbe avere dei valori abbastanza alti perché avevo controllato c'ha 90 in velocità che ciavolo cioè non dovrebbe essere schiarso quindi almeno da questo punto di vista non dovrebbe essere malvagio c'ha 80 aggressivo abbastanza direi 72 contro Palla vabbè poi vedremo all'alto pratico come si si comporta lo metto qui al posto di Dordevic Makita al posto di Dordevic a questo punto io provei a vendere mettiamo in lista trasferimenti anche Makita anche perché Makita è vecchio dovrebbe avere 32 anni una roba del genere 32 ha fatto il suo secondo me però non riusciamo più a vendere sì per cui vediamo se riusciamo andare un po' avanti e magari eventualmente riceviamo qualche altra offerta e a quel punto potremmo offerta per il trasferimento vedi Abrams 4 no Abrams no siete interessati ad acquistare Kornik no veramente Kornik no prestito con diritto di riscatto no momento hanno quello di prima sì questo lo rifiutiamo ok perché Kornik ci interessa giocatore stiamo d'accordo Makita è contento di andarsene vabbè anche perché Makita era un 60 è sceso quindi vediamo se ha ciammercoffetta per trasferimento questo ce lo vendiamo questo dobbiamo subito venderlo perché è un pacco tremendo in prestimo lo vuole nessuno ma nessuno proprio lo vuole veramente nessuno è stato uno di sé andrei un attimo a rinegoziare ma non esagererei tanto perché sennò non riusciamo a vendere vedete facciamo così me ne dai altri 25.000 niente 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 proprio proprio sono durissimi dai facciamo almeno 150 un aumentino busto un po' l'abbiamo venduto questo è scarsissimo io sinceramente tra l'altro non siamo usciti neanche manca volta è uscito a perzarlo neanche in prestito neanche in prestito lo vogliono ok vediamo se riusciamo a qualche altra offerta accordo per il prestito di Connick va bene quindi Connick accettiamo e se ne va lui in prestito non arrivano altre offerte e siamo quasi ad agosto 19 vabbè qualche altra offerta secondo me la potremo ancora fare prestito di Olson Olson puoi dare in prestito perché è troppo giovane deleghiamo soltanto prestito per un anno va bene così e a questo punto vediamo un po' ah venduto bene dai siamo contenti io a questo punto faremo un'offerta per vedere se riusciamo a prendere anche se in teoria noi dovremmo puntare su un terzino perché non abbiamo un terzino offerta per il prestito di no acquistare addirittura Bennett 2,70 allora diciamo così noi abbiamo 6 milioni e 58 Bennett è un difensore centrale io ho messo alcuni in lista vediamo si riusciamo a prendere l'abbiamo Collins facciamo una cosa ordiniamo Collins gli orfa pure me l'avete consigliato Feitino questo qui Nunson e Amian Lodero allora io inizierei a vedere se riusciamo a prendere qualcuno di abbastanza interessante Collins che potrebbe non essere male velocità di scatto elevazione quanto è alto non è 93 questo potrebbe essere forte allora vediamo se riusciamo ad acquistare poi eventualmente ci vendiamo l'altro allora scambio giocatori gli potremmo dare tipo Bennett offerta cartellino gli diamo magari 500 vogliono a Dordevic vogliono eh no Dordevic non te lo posso dare perché è il nostro cavolo di battaglia contro offerta però vogliono parecchio eh no arrivo massimo a 1.4 o meno 1.4 no vabbè no ma questo era forte secondo me non riusciamo a prendere quindi Collins non ce la facciamo a prendere poi c'era anche Boscagli che non sembra assolutamente ma c'era pure 24 anni vediamo se lo riusciamo ad acquistare uno lo dobbiamo prendere che se no lo riesca a vendere allora scambio giocatori secondo me non ci conviene provare difensione difensione secondo me non lo prendono a centrocampo chi abbiamo che gli possiamo dare Lorenz Altamarino gli do Altamarino offerta per cartellino gli diamo sempre 500 e se domani 5.3 e chi c'è e chi è Nesta si no no allora contro offerta scambio giocatore gli possiamo dare tre attaccanti chi c'è gli do Sandstrom no 1.3 a sale è un milione dai a vendita no niente vogliono 5.3 basta c'è no 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 contro offerta scambio giocatore insisto gli do un attaccante lo vuoi a makhida gli diamo makhida e ti do un milione e quattro a salmone e quattro sto proprio dando i numeri allora guarda quello che proprio ci serviva era il tempo ci hai fottuto veramente vabbè vediamo di se push up gli orf è un po' vecchio potremmo prendere questo 25 poi mi interessava sto fretino che secondo me non è male c'ha cantato testa di differenza potrebbe leader brasiliano è abbastanza alto contatto per acquistare vediamo se provisciamo a prendere non so quanto vale scambio giocatori sinceramente gli potremmo dare a bennett e gli do sempre quattrocento questo secondo me otto milioni e tre perché apprende ho scoperto un talento ho questo ma stai completamente fuori di testa contro offerta allora no sembra forte tanto ci dice di no assolutamente ci dice di no sicuramente è normale ma non pensavo che fosse così forte non c'era neanche la faccia sulla carta dovrebbe essere questo secondo me deve essere tipo un regen di qualche cosa col insegura rifutato l'odeiro pure mi sembrava abbastanza promettente dc potrebbe essere male 22 anni vediamo se riusciamo i giocatori non inventi la discadenza vabbè ok quindi l'odeiro non va bene prima fa una cosa andiamo un po' avanti vediamo se arriva qualcosa allora con il accordo per il presto di Olson dovrebbe essere andato bene quindi accettiamo andiamo a trattare se riusciamo a farci qualcosa di soldi negozio offerta cartellino facciamo 4,70 e addirittura c'è niente da fare non riusciamo ci serve un difensore centrale e a questo punto io non penso che possiamo spendere tutti questi soldi anche perché con quello non abbiamo speso tutti i soldi con England allora inaccettabili l'offerta penso di essere 1,100 ma state per terra volevo informarla che Parker ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti in ultimo programma di crescita ah ok bravo Parker va bene quindi quindi piano di crescita l'ha raggiunto Parker bravo Parker però sei scherzissimo ancora Parker anche se 6,63 aspettavo qualcosina in più sinceramente non lo so sinceramente vi dico la verità provo a fare un'altra offerta vediamo se riusciamo a prenderlo dove cavolo sta qua no che accetti andiamo a trattare allora ci facciamo dire no arrivo a 3 no vabbè no ma no no contro offerta no forse arrivare massimo a 3,2 3,3 dai oh basta ma chi è questo 24 anni no vabbè contro offerta ma scusami giusto per facciamo come fanno loro cioè gli abbasso il corpo vabbè niente allora dobbiamo capire come fare perché effettivamente tutti i giovani sono cercando a riprendere ma non riesco appena abbiamo Nunzon alto brasiliano che potrebbe non essere male cante alto 1,85 non sembra male non so 22 anni questo manco vuole venire porca miseria perché non voglio questo è un terzino vogliamo provare se usciamo più a questo terzino questo non è male però il problema è che mi serve il difensore centrale no vogliamo vedere se usciamo a prendere il terzino destro scambio giocatore attaccante lo vuoi al senso addirittura ma secondo me sto scendendo giocatori troppo forti non ce la faccio a questi livelli non ce la facciamo così dicono di no tutti quanti arriva a 2 sarà fortissimo ma secondo me no dobbiamo abbassare il livello secondo me perché secondo me qua non ce la facciamo vabbè vediamo se arrivano altri soldi che mi sto un po' spaventando vi dico la verità offerta per il prestito da superimento ah no che era da acquistare Makita andiamo a trattare veramente mi farebbe lasciare una cifra un po' più alta diciamo 8.50 dai Makita è forte oh mamma mia ma sempre a di no che palle questi dicono tutti quanti di no così non ce la facciamo praticamente fammi capire arriviamo direttamente già alla stagione eh sì inizia già il campionato vabbè andiamo avanti voglio capire se riusciamo come riusciamo a giocare offerta per il testamento di Makita dai andiamo a trattare andiamo un po' facciamo 7.60 guarda che Makita è forte 5.60 mamma che spidorci 6.70 vai è successo di 100.000 5.60 ma non si muovi un dito però questa non è contrattare perché in pratica io scendo e voi restate 6.40 dai 5.70 quanto è che te lo rivendi a Makita non te lo rivendi più a Makita è vecchio facciamo 600 dai dai ok avevamo vendito pure a Makita almeno su questo riusciamo ad andare un po' più avanti io a questo punto proverei una partita e poi a quel punto vediamo come ci dobbiamo comportare ufficio ma Makita ha venduto e ci fa piacere Olson in prestito e ci fa piacere Dordevic attraversiamo un periodo ultimamente ci penserò King vi posso incontrare per la nostra stagione mi sento in grana forma ok quindi anche King tra l'altro dobbiamo pure rinnovare i contrattini perché abbiamo molto in scadenza di contratto vabbè ci abbiamo una partita col Midwell porca paletta vediamo di non fare brutta figura per cui iniziamo bene così vediamo un po' di capire i cambi si l'ho fatti porca miseria siamo difesa siamo un po' fotturi secondo me vabbè comunque faccio giocare King perché Parker obiettivamente ci ha dato poca sicurezza Torre sta bene lì Dordevic magari lo faccio entrare nel secondo tempo anzi no lo faccio entrare adesso non mi ricordo Dordevic è un destro uvra e destro tutti e due destri di Abra ma se sta qua Pico ce lo portiamo bah io lo vorrei portare se no proprio questo si incavola e non gioco a posto di No Tsuga dai poi magari vediamo di fare qualche cambio speriamo di riuscire a fare a quel punto potremmo puntare tipo su un terzino che su un difensore ma non lo so ok bravissimo ehi mamma mia già stavano in controviete è buona bravo Abrams non so come sia passato non so come è riuscito a passare però è passato bravo c'è niente da fare quando incominciamo quando abbiamo i giocatori forti cioè quando giocano i giocatori nostri forti la andiamo sicuramente meglio fatta passare tutte le gambe fammi capire no vabbè un po' di forte vabbè bravo ah Casumo ok aia esci grande bravo King bravo Casumo torna in posizione torna torna in posizione ok bravo Boyd a difesa soffriamo a difesa soffriamo fortire mamma mia ah non lo fatica esci Casumo ok grande andiamo a fare non ce la fa bravo Adolf ok ok ehi fuori gioco tutti in fuori gioco ma anche un tiro a lontano parca misera Edwards è buona è buona è buona vabbè guarda che c'è Dordevic che potrebbe anche andare potrebbe anche andare ma non ci va ottimo stop e tira stop e tira no che cos'è ah bravo Dordevic no no casu no oh oh qualcuno che gli viene a dare la mano a questo niente parca misera king non esagerare occhio bravissimo king bene male che è uscito c'è campo per la ripartenza vai che buona no era la palla di Dordevic la palla era di Dordevic non ho visto che il giocatore era però è sopravvento vabbè comunque una partita l'abbiamo vinta difesa abbiamo giocato benino però abbiamo un po' riscato bravo king king è uscito tantissimo ma è salvato il risultato secondo me king comunque vabbè l'importante era partire bene che cosa vuole king ottimo lavoro Dordevic vabbè prestazione autorevole intanto è 69 Dordevic è importante vabbè comunque siamo ad agosto fondamentalmente dobbiamo capire che cosa fare perché fondamentalmente vi dico la verità ci serve soprattutto un terzino destro perché poi a difesa non miglioriamo però abbiamo qualcuno rischiarsi ma ci serve assolutamente un altro terzino destro perché sennò ne ho soltanto uno visto che Shepard ne avrà ancora per molto e dobbiamo piazzare un po' questi qua sennò dobbiamo giocare con questi della primavera che sono scherzini vabbè ci vediamo al prossimo video bye ciao a tutti